Chiunque preferisce giocare subito, poi alla fine dipende, sono quelle partite che magari riesce a rendere di più subentrando come in alcune partite che riesce a fare subito bene, poi comunque è una scelta che fa il mister, quindi noi accettiamo sempre. Sto lavorando penso come tutta la squadra, stiamo lavorando tutti insieme, serenamente, comunque per migliorarsi sempre e poi penso che alla fine le somme si faranno. Comunque rispetto a prima, giustamente il ritiro l'ho fatto un po' a parte e penso che si senta, però ora la condizione è ottima e spero di continuare a dare una mano. Sicuramente un attagante comunque deve pure pensare a fare il gol, però non deve essere un'escezione alla fine, comunque davanti la concorrenza è tanta, anzi c'è solo l'imbarazzo della scelta, credo, però penso che come gioco in questo momento può toccare chiunque altro. L'importante comunque è lavorare per la squadra e penso che se io faccio l'assist vuol dire che sia un compagno meglio piazzato e spero che lo faranno fare anche loro a me, però l'importante è stare tranquilli e lavorare tutti nella stessa direzione. Penso che come succede quasi sempre ci sono delle fai delle partite dove comunque magari noi abbassiamo il ritmo e magari pensiamo più a stare più bassi, diciamo a difendere. Purtroppo alla fine noi penso che la partita l'abbiamo fatta e potevamo pure vincere meritatamente. Purtroppo sono stati, diciamo, errori commessi dalla squadra, alla fine comunque il primo gol è venuto sul fallo, il secondo su calcio d'angolo dove penso che c'era fuori gioco, però bisognava migliorarsi, comunque solo col lavoro si migliora. Penso che le partite le facciamo pure in trasferta, diciamo che ci vuole un po' più di fortuna, non lo so, solamente perché una squadra come la nostra comunque penso che a parte pochissime volte abbiamo, diciamo, non meritato di vincere pure in trasferta. Purtroppo ci sta andando male, speriamo che il vento giri. Purtroppo in questo momento è che noi ogni tiro che si fanno ci fanno gol, ecco più che altro, diciamo, che prendiamo il gol comunque che di solito una squadra forte non deve prendere. Purtroppo in questo momento dirà male, è l'importante che comunque pure là davanti i compagni miei stanno facendo gol e bene o male riusciamo a, diciamo, qualche volta a rimediare. Gemma, che penso? Lo sanno tutti, cioè alla fine non sta a me dire o cosa pensare di lui, sicuramente. È un grandissimo allenatore, penso per la categoria, forse anche in là, però in questo momento io penso al Bari, quindi... Come in tutte le partite, alla fine, le partite facili non ci sono. Sta a noi renderla facile o complicarci. Le mie idee erano quello e ne sono straconvinto adesso, perché comunque penso che i risultati si vede, che comunque, meno male, non tutti gli allenatori comunque alla fine ti fanno sentire partecipi. Magari pure chi non gioca, penso che in questo gruppo si sente comunque parte, che alla fine è vero che questa squadra penso che potrebbero giocare tutti, chi e chi no, perché comunque sono tutti, penso, forse la squadra più forte che c'è secondo me. Però purtroppo lui deve fare delle scelte, cioè secondo me lo sta facendo benissimo, facendoci tutti partecipi. Comunque la Bia è sempre stato un campionato così, di solito sono sempre quelle due o tre squadre che hanno una marcia in più. Però quest'anno, meno male, è molto più equilibrato. Purtroppo noi dobbiamo stare tranquilli, magari forse cambiare un po' più di mentalità quando siamo fuori. Penso che comunque la testa ti fa fare la differenza, però il lavoro non c'è assolutamente niente da dire perché la squadra si sta dando il massimo. Penso ci vuole un po' di cambio di mentalità e un po' di fortuna.